Un saluto dall'ETG della mobilità. Da lunedì prossimo, 11 gennaio, partirà la seconda fase dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte della Magliana. Gli interventi prevedono inizialmente l'installazione di un nuovo spartitraffico centrale. In un primo momento il cantiere sarà notturno, con chiusure complete della carreggiata della Roma-Fiumicino tra le 21 e le 6, mentre le successive lavorazioni saranno realizzate di giorno su una singola corsia per senso di marcia, con l'altra corsia che resterà disponibile per il transito dei